Sono stati rilasciati con l'obbligo di firma i tre cuochi, tutti originari del Bangladesh, che erano finiti in manette a seguito della rissa che si era accesa nella notte tra lunedì e martedì in pieno centro storico a Retino. I tre di 21, 23 e 34 anni sono stati giudicati con rito direttissimo per loro l'accusa di rissa aggravata, lesioni gravi e porto abusivo di arma da taglio e oggetti atti ad offendere. Anche il quarto uomo, un filippino di 39 anni che in un primo momento era riuscito a darsi alla fuga, è stato identificato e denunciato, per lui non è però scattato l'arresto poiché non è stato colto in flagranza di reato. Sando ad una prima ricostruzione sarebbe stato proprio quest'ultima da ferrare il coltello ritrovato poi dai militari. La furiosa lite si era accesa attorno alle 1.30 di alcuni giorni fa nei pressi di un rivenditore di kebab tra via Guido Monaco e via Madonna del Prato. I tre cuochi hanno raccontato che il tutto era partito da alcune frasi di scherno, gli animi si erano così scaldati dalle parole, si era pen presto passati e fatti, prima con calce e pugni ed infine era uscito anche un coltello, i colpi inferti erano stati così violenti da provocare la rottura della lama. A chiamare soccorsi e forze dell'ordine erano stati alcuni passanti. I tre bengalesi avevano riportato ferite multipredataglio sul volto, alla testa e sulle mani, per loro erano scattate immediatamente le manette. Inquirenti stanno ancora portando avanti le indagini per cercare di capire se ci siano altri motivi ben più gravi a monte di questo violento episodio.